Amici di Football Is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua per fare il diario della diciottesima giornata del campionato di Serie A. Turno che io intitolo come Napoli, ora o mai più. Napoli che mai come quest'anno può vincere lo scudetto. Primo in classifica con 9 punti di vantaggio sulla seconda a metà campionato e con Milan, Inter e Juventus che hanno i loro problemi, le loro difficoltà insomma uno scenario che non è che si verifichi proprio tutti gli anni. Un'occasione più unica che rara per i partenopei. Un'occasione quasi irripetibile. Napoli che vince, stravince 5 a 1 il big match contro la Juventus. Vi dico la verità, non me l'aspettavo, pensavo che vincesse la Juve. Non perché io straveda per la squadra di Allegri, ma perché, come tutti sapete, ho dei dubbi sulla tenuta mentale del Napoli. Parlando un po' della partita, a parte qualche imperfezione in difesa, vedi il gol subito e la traversa di Di Maria che potevano riapparire il discorso. Un Napoli straripante che domina in lungo ed in largo. Primo tempo in cui la squadra di Spalletti è andata a velocità tripla rispetto agli avversari. Triangolazioni, pressing, sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Intensità, fame, voglia di vincere. Ha avuto qualche sbandamento dopo il 2 a 1 di Di Maria, poi però nella ripresa i partenopei segnano subito il 3 a 1 e chiudono il discorso. Parlando un po' dei singoli, sicuramente grandi prestazioni di Ozyman e Kvarraskelia. Il primo, al di là della doppietta, un animale infermabile per la difesa bianconera. Il secondo, Kvarraskelia, gol, 3 assist, ottima intesa poi con Ozyman, ma nota di merito anche per altri giocatori. Meret ha compiuto una parata decisiva a fine primo tempo. La deviazione di Ramani su un cross dalla sinistra è stato decisivo perché se quella palla fosse entrata 2 a 2 e chissà come sarebbe andato il secondo tempo. Molto bene anche Di Lorenzo, bravo sia in fase difensiva che in fase di spinta. Fornisce poi l'assist per il quinto gol di Elmas. Elmas, tutte le volte che è chiamato in causa, risponde presente, talvolta segna anche. E infine, altro giocatore che con Spalletti ha avuto veramente un'ottima crescita individuale, nonché uno dei migliori in campo nella partita contro la Juventus, Lobotzka. Lobotzka, signore dominatore del centrocampo. Recupera palloni, dirige il gioco e avvia l'azione di almeno 2 dei 5 gol dei partenopei. Insomma, veramente una partita sontuosa da parte sua. Per quel che riguarda la Juventus invece, arrivava a questa partita con 8 vittorie consecutive senza aver subito gol. Miglior difesa del campionato, miglior difesa del campionato solo nei numeri perché se guardiamo le partite precedenti, degli errori li vedevi e non subiva gol per demeriti degli attaccanti avversari. Bremer, il peggiore in campo, che è stato letteralmente rincitrollito, rincoglionito, triturato da Ozyman fino a quando è rimasto in campo. Al di là poi dei suoi errori, vedo un difensore che gioca in modo diverso rispetto all'anno scorso perché se con Juric al Torino avanzava, saliva fino a centrocampo, adesso lo vedi rinculare all'indietro. Poi non ho capito la scelta di giocare con la difesa a 3. 3-5-2 con Chiesa esterno a tutta fascia. E poi personalmente non avrei neanche cavato Milik. Stai perdendo, togli l'unica prima punta che hai a disposizione per mettere dentro, che è una seconda punta. L'unico che si può salvare un po' è Di Maria per il gol, quello che ha cercato di prendere un po' di più in mano la squadra. Altra frenata poi del Milan. 2-2 sul campo del Lecce. Un pareggio che, se si considera l'andamento della partita, è un punto guadagnato. Se invece si considera quello che dovrebbe essere quello che è l'obiettivo del Milan, due punti persi. Complessivamente comunque direi un Milan più no che sì. Primo tempo dei rossoneri inaccettabile. Una squadra sfilata, disorientata, in difficoltà a centrocampo dove si sentiva l'inferiorità numerica rispetto agli avversari, e sfaldata in difesa. Prende ancora una volta gol su calcio piazzato, ma a parte questo i giocatori del Lecce tutte le volte che ricevevano palla erano sempre liberi. Dall'altra parte invece un ottimo Lecce. Compatto, frezzante e lucido. Avanti di due gol, ma potevano essere anche tre. Secondo tempo poi i Salentini calano. Il Milan da squadra tecnicamente più forte, grazie poi anche alla crescita di Benassera, riesce a rimontare da 2-0 a 2-2. Nel finale poi le squadre si allungano con il Lecce, che va più vicino alla vittoria rispetto al Milan. Come tutti sapete, per come vedo io il calcio, questa è una cosa che non ha modo di esistere, perché se tu sei una squadra più forte, vai in svantaggio in una partita storta, riesci a raddrizzarla, non esiste proprio che poi rischi ancora di perderla o che addirittura la perdi. Per il Lecce non arriva la vittoria, però comunque un buon punto, un buonissimo punto contro un avversario prestigioso per quelli che sono i suoi obiettivi. Del Milan invece ho già parlato, bicchiere mezzo vuoto, vince invece l'Inter, 1-0 contro l'Ellas Verona, Inter di Orto Muso, bene, soli 3 punti per la squadra di Simone Izaghi, partita dell'Inter che è stata, gol di Lautaro dopo due minuti, punto, per il resto ho visto un Inter balbuziente, povera di idee, che dopo aver segnato ha lasciato le redini del gioco all'Ellas Verona e meno male che giocavi contro il Verona. Dietro le prime 4 vincono poi Lazio, Atalanta e Roma, Lazio che vince 2-0 a Reggio Emilia contro il mio Sassuolo, iniziamo dai miei neroverdi, Sassuolo che personalmente io mi sono rotto il cazzo, mi sono rotto il cazzo di questo gioco, di questa classifica, di questi risultati, di come sta andando questa cazzo di stagione. Una squadra che ha dentro gente come Consigli, Gianmarco Ferrari, Erlich, Rogerio, Chiria Corpulos, Maxime Lopez, Frattesi, Laurentier, Traoré, Berardi, Pinamonti, e ti perde le partite in questo modo, ti perde le partite più per suoi demeriti, che non per meriti degli avversari, dimostra davvero di essere una squadra mentalmente debolissima, debolissima, debolissima. Una squadra dove ogni settimana, quasi, ce n'è uno che si rompe, ed è palese come sia stata sbagliata la preparazione estiva, poi man mano arrivano una serie di sconfitte consecutive, che ti fanno scivolare nelle sabbie mobili, non sei abituato a lottare, e quindi la situazione con il passare del tempo, soprattutto sotto l'aspetto mentale, si fa sempre più difficile, quindi insomma, vediamo di risollevarci, vediamo di darci una svegliata, salviamo questa stagione, facciamolo perché io veramente non ho voglia di sentire quei luridi stronzi, quei pezzi di merda che ci chiamano scansuolo, e ci buttano la merda addosso, facciamolo per quello, perché a quelli stronzi devono venire, i fegati marci, devono venire i fegati marci, a quei pezzi di merda che sparano, merda sul sassuolo, scusate la ripetizione, non me ne frega un cazzo, e poi l'anno prossimo ripartiamo, puntelliamo la squadra, e torniamo ad essere il vero sassuolo, il sassuolo da parte sinistra della classifica, facciamolo almeno per il nostro caro presidente Squinzi, che glielo dobbiamo. Comunque, parlando un po' della gara, un sassuolo che non è che abbia giocato malissimo, però è la solita partita in cui il sassuolo perde per suoi demeriti, un primo tempo in cui nei primi minuti i neroverdi hanno iniziato aggredendo l'avversario, hanno fatto vedere qualche sfumatura, qualche sfumatura di quello che dovrebbe essere il loro gioco, comunque sia una prima frazione blanda, da 0-0, fino a quando il signor Tolian non decide di colpire la palla con il gomito, regalando rigore alla Lazio, dal dischetto Zaccagni, gol 1-0 per i bianco celesti, secondo tempo in cui il sassuolo cerca un po' una reazione, ma senza mordente, una squadra che poi quando cercava di attaccarlo faceva in modo lento, là in avanti poi si sentiva l'assenza di una prima punta, quando cercava di entrare in area di rigore, poi nel finale, nei minuti di recupero, approfittando di un orrore, di un obrobrio di Juan 3 soldi, in contropiede, Felipe Anderson segna il gol del definitivo 1-0. Dando le prestazioni dei singoli, male tutta la difesa, malissimo Tolian, malissimo poi anche Juan 3 soldi, non ho capito perché è rimasto tutto il tempo in campo, perché si continua a farlo giocare, quando questo qua, tutte le volte che gioca, ne combina una, ma me personalmente ha rotto il cazzo, non manderei via calci nel culo domani mattina, migliore fra tutti, sicuramente Frattesi, per corsa, sostanza e qualità, Traoré e Terio, Laurenti è impreciso, Berardi poca roba, Alvarez non ha toccato una palla, però personalmente non l'avrei sostituito, e per cercare di pareggiare la partita, avrei finito con il 4-2-4, con Alvarez e lo stesso De Frey, con poi ovviamente Berardi e Laurentiè. Dalla Lazio, massimo risultato con il minimo sforzo, una partita da 6 e mezzo per la squadra di Sarri, concreta e brava ad approfittare degli orrori della difesa del Sassuolo, per quel che bastava, dolente di questa giornata però, l'infortunio di Immobile che è dovuto uscire dopo un quarto d'ora. Poi Atalanta in versione schiaccia sassi, che demolisce 8-2 la Salernitana. Non ho visto la partita, ho guardato gli highlights, ho letto qualcosina in giro. Atalanta simile a quella di un paio di stagioni fa. Una squadra che quando attacca lo fa con più giocatori. Segna tanto, segnano in tanti. Salernitana che non ha avuto scampo, sconfitta tennistica che costata la panchina all'allenatore Nicola. Nicola in bilico da diverso tempo e che, a mio modo di vedere, nonostante la salvezza dell'anno scorso, è sempre stato un po' lì sulla graticola. Vince poi anche la Roma, 2-0 in casa contro la Fiorentina. Una partita noiosa in cui l'espulsione di Dodò ha avuto il suo peso. Una vittoria meritata da parte dei giallorossi dopo una prestazione comunque non troppo esaltante. Roma che nel secondo tempo vinceva 1-0 era sopra anche di un uomo eppure stava in difesa. Insomma, non il mio ideal modo di giocare a calcio. Volevo poi fare una riflessione sulla classifica. Guardiamo le prime 8. Napoli 47 Milan 38 Juventus ed Inter 37 Lazio, Atalanta e Roma 34 Udinese 25 Escludendo il distacco del Napoli dalla seconda c'è poi una spaccatura dalle prime 7 a tutte le altre. Segno che a metà campionato è già delineato quali saranno le squadre che andranno in Europa. Vediamo poi come l'Atalanta e le due romane dopo questa giornata abbiano fatto un balzo in avanti portandosi a meno 3 dalla zona Champions e a meno 4 dal secondo posto. Un margine che si è ridotto in questa giornata però una distanza che non credo verrà mantenuta per tantissimo tempo. Meglio, Atalanta, Lazio e Roma per andare in Champions devono proprio sperare che una delle quattro line avanti proprio crolli nella seconda parte di stagione. Personalmente non credo troppo a nessuna delle tre per diversi motivi non do molte chance di arrivare nella massima competizione europea. A mio modo di vedere le prime quattro saranno quelle che sono adesso Napoli, Milan, Juventus, Inter. Le altre poi. Vittoria in rimonta della Bologna 2 a 1 sul campo dell'Udinese Udinese sempre in una buona posizione di classifica però non vince dall'epoca dell'uomo di Neandertal in ambito salvezza sempre vittoria in trasferta dello Spezia 1 a 0 sul campo del Torino Spezia che con questi tre punti fa un bel balzo in avanti perdono invece Sampdoria e Cremonese Sampdoria che perde 1 a 0 contro l'Empoli quello che era il Monday Night di questa giornata una partita con un finale convulso con il gol annullato ai blu cerchiati Empoli che con questi tre punti sale in classifica Sampdoria invece sempre in vischiata poi Cremonese-Monza 2 a 3 Cremonese sempre ultima in classifica una partita in cui per 60 minuti il Monza ha dominato avanti di tre gol poi nell'ultima mezz'ora la Cremonese ha avuto un po' un moto d'orgoglio però questo non è bastato per rimontare la partita è arrivata l'ennesima sconfitta sconfitta che tra l'altro è costata la panchina all'allenatore Alvini sostituito adesso con Ballardini cambio in panchina che porterà qualche vittoria nel girone di ritorno quello credo di sì però per salvarsi direi che ci vuole veramente un miracolo e mezzo non un miracolo un miracolo e mezzo va bene ragazzi questo è stato un po' il diario dell'ultima giornata di campionato fatemi sapere cosa ne pensate io come al solito mi invito a scrivere al canale di youtube a seguirmi su facebook a seguirmi su instagram a lasciare un commento a lasciare un mi piace a spammare questo video in ogni singolo punto del planisfero detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi